I Love Disco Bentornati Disco Lovers Fra gli amici di I Love Disco ci sono anche delle donne bellissime Una su tutte, la ex Miss Italia, oggi attrice Martina Colombari Reduce dal successo di una grande trasmissione di ballo, stasera ad un gran ballo, che effetto fa essere qua? Allora, innanzitutto è stranissimo vedere una festa di disco anni 70 e 80 all'interno di un teatro meraviglioso come questo della Pergola Mi hanno detto che è stato restituito alla città, quindi ci saranno anche eventi teatrali Appunto, mi raccontavano che era un tempo una festa da ballo, che questo palco praticamente si alzava e si trasformava proprio in una vera sala da ballo Quindi è divertente, devo dire che di eventi ne ho visti tanti, ho partecipato a tanti, ma forse è la prima volta in una situazione come questa Quindi grande emozione E appunto il leitmotiv nostro è la musica 70-80, la ami, ti piace, cosa ami di più? Ma guarda, l'amo dai racconti di mia madre, perché comunque ascoltava sempre gli Abba o da rivedendo le sue foto di quando era più giovane Io ho una mamma che mi ha partorita a 17 anni, quindi una mamma amica che ha vissuto proprio intensamente in quegli anni Discotecara, perché comunque siamo di Riccione, quindi la musica è nel sangue La tua musica preferita invece qual è? Devo dire che ascolto veramente di tutto, nel senso nel mio iPod ci può essere da un tango argentino alla musica house da cubo Devo dire che dipende molto da come mi sento A presto! Ciao!